Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo di un comando molto utile per quando si sta facendo test su programmi In pratica il comando si chiama xkill e su xfce non c'è il comando integrato in un sistema per avviarlo Quindi in teoria bisognerebbe aprire il terminale, digitare xkill e poi killare l'applicazione sull'interfaccia grafica cliccandoci sopra Invece è molto utile creare uno shortcut in questo modo qui Andare sul whisker menu, scrivere tastiera Poi andare sulle scorsatorie applicazioni, io l'ho già fatto quindi farò vedere cosa ho messo CTRL ALT X e poi fate aggiungi, mettete il comando xkill La sequenza CTRL ALT X, almeno io mi trovo bene con questa perchè x mi ricorda xkill Potevo mettere anche K se uno vuole mettere kill, attenzione scegliamo il shortcut che abbia un senso Quando avete messo xkill al programma, dopo quando fate il salva, vi chiederà la sequenza Poi la premete CTRL ALT X, se avete il programma funzionante Per farvi vedere il suo funzionamento, apro un'immagine a caso, premo CTRL ALT X Diventa teschetto, ho cliccato sopra il programma e si è chiuso Con questo sistema riuscite a bloccare il programma Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao